In questo video riprenderemo in mano l'argomento error handling andando a completare così la nostra panoramica sul tema. Buona visione! Ricominciamo da un'altra combo che possiamo utilizzare tirando in ballo la funzione val, ovvero eval più do. A differenza della forma eval più dai eval più do non interrompe automaticamente l'esecuzione del programma una volta sollevata l'eccezione. Nell'esempio si inserisce all'interno del blocco eval le espressioni x uguale 10 diviso 2 e y uguale 10 modulo 0 e successivamente si stampa in output le due variabili. Quindi cosa succede? La funzione val esegue il parsing degli elementi contenuti all'interno delle parentesi graffe, trova un errore nell'espressione y uguale 10 modulo 0, cattura l'errore nella variabile speciale chiocciola e salta al blocco do dove gestiremo l'errore appena catturato. Infatti se eseguiamo lo script viene stampata in output la stringa errore più eccezione e la stringa altre operazioni. Anche in questo caso bisogna però prestare attenzione poiché questo metodo cattura esclusivamente il primo errore che incontra durante il parsing degli elementi contenuti nel blocco eval. Ho modificato leggermente lo script assegnando ad x il risultato di 10 diviso 0 quindi un'operazione non valida. A questo punto abbiamo dunque all'interno del blocco eval due errori ovvero x uguale 10 diviso 0 e y uguale 10 modulo 0. E che cosa succede adesso? Eval effettua il solito controllo sul contenuto delle parentesi graffe ed effettuando il parsing dall'alto verso il basso il primo errore che incontra è 10 diviso 0 quindi lo cattura e salta direttamente al blocco do ignorando totalmente gli elementi che si trovano dopo quindi pure la parte dove si tenta di assegnare alla variabile y il risultato di 10 modulo 0. Eseguiamo quindi lo script e come previsto abbiamo in output la stringa errore più eccezione che in questo caso è il legal division by zero ovvero il primo errore catturato dai val. Inoltre è tutt'altro che raro imbattersi in questa forma qua dove viene aggiunto un 1 alla fine del blocco eval. Ma che cosa vuol dire? Scopriamolo insieme. Inserire il valore 1 alla fine di un blocco eval equivale a confermare che tutto è andato per il verso giusto. È un po' lo stesso meccanismo di una subroutine che alla fine delle sue operazioni restituisce true se tutto è andato come doveva andare. Nonostante ciò non influenza in alcun modo il funzionamento di eval né tantomeno è considerato un elemento necessario. Si tratta solamente di una forma utilizzata da alcuni programmatori per rendere le loro intenzioni più chiare. Tutto qui. Detto ciò direi che è giunto il momento di passare alla forma expr di eval. La forma expr di eval a differenza della forma block effettua il parsing solamente sull'espressione passata come parametro. Nell'esempio si passa alla funzione eval l'espressione 10 diviso 0. La funzione eval esegue quindi un controllo su quest'ultima, trova l'errore, solleva l'eccezione e passa la staffetta alla funzione die che stampa in output il nostro messaggio d'errore terminando così lo script. Da notare che l'espressione va inserita tra apici o doppi apici. Eseguiamo il tutto ed ecco il nostro messaggio d'errore in output. Ovviamente restano valide tutte le tecniche viste in precedenza con la forma block. Tanto per vederne una nell'esempio vi ripropongo la forma eval che si avvale di un costrutto if-else per gestire l'errore. Eseguiamo quindi lo script e come vedete resta tutto perfettamente lecito. Dulcis in fundo vi ho scansato un aspetto di eval che vi farà accapponare la pelle. Come ormai ben sappiamo la funzione eval val per catturare gli eventuali errori che trova esegue il parsing sugli elementi interessati. Ma se pensate che si limiti a leggere il contenuto delle sue parentesi graffe vi sbagliate di grosso. Infatti la funzione val zitta zitta esegue ciò che trova tra le sue parentesi graffe. Infatti la funzione val genera un sottoprogramma dove vengono eseguite le istruzioni processate durante il parsing e quando il sottoprogramma cattura un errore esso viene inviato come valore di ritorno alla funzione val. Il pericolo sta nel fatto che seppur indirettamente le istruzioni processate dai val vengono comunque eseguite e va da sé che questo aspetto può potenzialmente esporci a notevoli rischi. Immaginiamo di includere all'interno del nostro blocco eval la funzione system. Questa funzione ci permette di lanciare direttamente dal nostro script un comando di share. Ora guardate un po' cosa succede se eseguiamo lo script. In output troviamo la stringa ops stampata attraverso la funzione system dal comando eco. Ciò accade poiché come abbiamo detto la funzione val esegue senza alcuna forma di controllo gli elementi sul quale effettua il parsing. Quindi la funzione system viene eseguita senza troppi problemi. Roba da far rizzare i capelli. Facciamo di peggio. Nell'esempio si chiede all'utente di inserire qualcosa in input e distrattamente commettiamo l'errore di inserire la chiamata della funzione system all'interno del blocco eval. L'utente a questo punto dopo essersi sciorinato tre stagioni di fila di Mr. Robot decide di metterci alla prova inserendo il comando rm file importantissimo e una volta premuto invio viene eseguito il comando rm file importantissimo tramite la funzione system cancellando il suddetto file ops. Ora qua si potrebbe aprire una diatriba potenzialmente infinita sull'argomento. Dovete sapere infatti che alcuni programmatori vedono l'utilizzo di eval una cattiva pratica mentre i più cool potrebbero addirittura dirti cose del tipo ehi amico dovresti skillarti oppure una cosa del tipo ehi se usa eval non hai le skill oppure chi non salta usa eval ma dal mio punto di vista non c'è nulla che non vada in questa funzione. Inserire funzioni come system all'interno di un blocco eval è un po' come lavarsi i capelli con il sapone per i piatti cioè volendo lo puoi fare però diciamo che non è proprio il massimo ma ciò che è importante capire è che se poi alla fine resti pelato di certo la colpa non è del sapone per i piatti. Un buon programmatore dovrebbe riuscire a vedere un pelino oltre il campo applicativo standard del software sul quale sta lavorando per scrivere del codice più robusto e sicuro possibile. Tornando all'esempio chiedere dei dati in input all'utente non effettuando alcun controllo sui dati immessi e poi addirittura passarli alla funzione system contenuta per concludere tutto in bellezza in blocco eval è un bel azzardo e state pur certi che se distribuite un software scritto in questo modo andrete sicuramente incontro a dei problemi. Non è questione di se ma di quando. vabbè chiudiamo la parentesi e torniamo a deval concludendo usatela pure tranquillamente per gestire le eccezioni però attenzione perché come avete visto se utilizzata impropriamente vi può esporre a dei rischi non di poco conto. Se qualcuno di voi viene da altri linguaggi di programmazione e proprio non riesce a digerire la mancanza del classico costrutto try catch può installare il modulo try tiny scaricandolo via cpan. Una volta installato il modulo potrete rendere disponibile il buon vecchio try catch semplicemente importando il modulo try tiny nei vostri script che poi tra l'altro l'utilizzo di questo modulo è senza ombra di dubbio il sistema più sicuro per gestire le eccezioni. Che bellezza! Bene detto ciò direi che anche per questo video è tutto. Per qualsiasi domanda vi invito come al solito a lasciare un commento. Alla prossima!